A poche ore dalla sua uscita dalla Lega, Gianfranco Giulianti, attuale presidente della Tua, lancia il progetto di Futura e Oggi, una confederazione plurale che vuole essere un punto di riferimento di varie anime. Presenti in sala i consiglieri regionali Emanuele Marco Vecchio, Valore Abruzzo e la consigliera del gruppo misto Marianna Scoccia, oltre a diversi amministratori e politici abruzzesi delle varie province. L'obiettivo? Quello di far convergere sensibilità diverse che di volta in volta troveranno la strada per condividere delle progettualità, come ad esempio per gli ospedali o sui tribunali minori. Mentre sulla sua attuale posizione politica Giulianti risponde così. Altrove mi sembra che sia un luogo altro che già si definisce di per sé. La mia storia è una storia da tutti conosciuta e quindi è evidente che io ho un perimetro astratto nel quale muoversi. Ma è altrettanto vero che oggi non esistono più i partiti, le migrazioni da una parte all'altra che ci sono ormai in tutte quante le realtà dei comuni, le province e la regione, dimostrano che c'è una fluidità che in passato non c'era. Quello che ci riguarda abbiamo deciso di interloquire con la pluralità e siamo evidentemente aperti a valutare tutte quante quelle che sono le opzioni che ci verranno offerte. Futura si sta dotando anche di una task force per affrontare una serie di problematiche che riguardano il nostro territorio e che vede al vertice il presidente merito della regione Gianni Chiodi. Secondo me sono in qualche misura diventati altro e soprattutto qualcosa che non mi piace. Lo accennavo, c'è ormai una scelta quasi autoreferenziale di vivere sulle chat, si fanno i selfie, si applaudono a vicenda ma poi la capacità di incidere sul territorio e la si sta dimostrando. Elezioni provinciali e il suo ruolo intua i temi poi toccati da Giulianti. È evidente che chi si sta muovendo in questo momento per la sua costruzione non potrà muoversi in maniera compiuta rispetto al discorso delle provinciali. C'è un candidato che gli amministratori che hanno già aderito a Futura voteranno. Questo candidato è quello che naturalmente dovrebbe essere indicato e che ad oggi ancora non viene indicato. Faccio riferimento al sindaco di Montesilvano, non esiste evidentemente nessun tipo di incompatibilità. Io so perfettamente di essere in qualche misura, lo dico tra virgolette, in quota Lega e sono assolutamente a disposizione anche se mi trovo in un momento di fine corsa.